Sì, è stato arrivato nel ciocco qua. Sì Sì, ha salito il migliore di oggi Sì, è una volta il giorno Sì, siamo arrivati al giorno Sì, siamo arrivati al giorno Sì, siamo arrivati al giorno Sì 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 e questo non è meno che la prossima perché la prossima la verità però non so, non siamo mai mai l'intensità funzionale, non so che stanno facendo e come è un martillo molto piccolo, le tira molto poco come va molti passaggi e un martillo piccolo, le tira molto poco e la macchina con la porta la macchina con la macchina Grazie a tutti.